ciao ragazzi eccomi qua con il mio orto come vi avevo promesso che ritorno con un video con il risultato il risultato è pazzesco sono usciti i pomodori bellissimi c'e trivoli peperoncini piccanti peperoni di tutto molto contento ho lavorato tanto però il risultato è ottimo in questo video vi faccio vedere tutto seguite il video così vedete tutti i risultati come è andato con l'orto in città e come vedete dietro a me c'è la foresta diciamo dall'altra parte il palazzo vabbè dall'altra parte iniziano i palazzi guardate qua il pomodoro che bel colore la grandezza perfetti proprio e qui come si vede le piante sono cresciute sane pure la verdura qui c'è i trivoli stanno benissimo non mi aspettavo e qui le ciliegine ho messo un po diversi tipi insieme i trivoli eccoli tutto ok guardate di nuovo pure di altezza di grazie a dio non è che sono esperto però è uscito benissimo e giustamente non poteva mancare melanzane che ho messo solo sei piante però tutto bene mi ha fatto tanto e qui i peperoncini piccanti con arrosticini pomodori buonissimi guardate quanto sono bene mangio come si mangiava una volta sono ben buonissimi che gusto se avete un pezzo di terra fatelo vale la pena e adesso ho passato a raccogliere che ho raccolto forse più di 5 kg di pomodori poi prima no vi faccio vedere pure una foto da una piccola controllata tutto è ok ciao a tutti di nuovo al mio orto ho avuto venire a raccogliere un altro pomodoro sembra che sono impazziti guardate qua questo mai scoppiato forse quasi mezzo chilo questo pomodoro guardate un altro è incredibile una terra che non ci stava niente stava solo dei boschi sono riuscito a fare tutto questo poi i pomodoro poi i pomodori che mi fa a parte il gusto sono buonissimi però è bello se c'hai voglia lo puoi fare non mi aspettavo è uscito l'orto come sono uscito i capelli dopo il trapianto buonissimo dai vi aggiorno vi aggiorno come va più dell'orto fino adesso tutto bene andiamo quindi abbiamo